Ciao ragazzi FIFA 18 Video per PS3 ve l'avevo promesso Comunque ragazzi cosa vi dico Iniziamo FIFA Ultimate Team Vi lascio nel video Non metto la faccia Perché non mi piace tantissimo Vi voglio Lasciare il video libero E andiamoci a creare La squadra Di FIFA Ultimate Team Qui su PS3 Andiamo al gioco Ciao ragazzi Si si parte Come vi ho detto prima Oggi facciamo Che cosa Ok Scaricamento ottimi aggiornamenti Cosa facciamo ci creiamo la squadra di foot Non ho avuto ragazzi Tantissimo tempo mi dispiace Ragazzi perché ieri Mi sono messo a Unboxare il Mini NES One Piece Ho giocato un po' a One Piece Ho giocato un po' a FIFA 18 Per Nintendo Switch In modo personale ragazzi C'è Antonio Non ho postato video Con quanto riguarda il canale Di Ninetro Ok Benvenuti in FIFA Ultimate Team Che è la tua squadra di sogni Adesso c'è la modalità singola Ragazzi 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 Quando pagate 60 euro Per FIFA 18 Vi pagate di più FIFA Ultimate Team Tramice Tutto un po' piano Se no viene l'erco nel video Qui si inizia Chi si inizia Chi si inizia In il tuo Ultimate Team Ultimate Team Ma il video Inizia da qui Noi abbiamo il codice Spacchiettamento La Perché ho prenotato Il gioco Mi Legione Benvenuto in FIFA Ultimate Team Aprire il tuo pacchetto iniziale È solo il primo passo Completa i nuovi incarichi Allenatore Per prendere confidenza Con i concetti principali Del gioco E per guadagnare ricompense Che ti aiuteranno A mettere insieme La tua rosa C'è già una ricompensa Che ti attende Nell'hub Incarichi Allenatore Vai lì Per riscattarla E cominciare Ab Allenatore Siete Prima Incarichi E dov'è Incarichi Allenatore Comunque Crea la tua scuola Ritira e premia Da un nome Al crepo Come lo chiamiamo Sì ragazzi Lo chiamiamo Mister Bianco Caccio Mister Bianco Calcio La mia squadra Si chiama Mister Bianco Milicia FC Ma noi ci mettiamo Mister Bianco FC Mister Bianco Ok Convermo Il nome Ma è il nome Il club Perciò Ritira Premia Pacchietto Bronzo Ci mancano posti Ragazzi Sapete Le prime volte Che sono Qui con FIFO Team Non vi sto Scherzando Ragazzi In precedenza Non l'ho fatto Quasi mai Non ho avuto Tutto questo Interesse Mi sembra Che Infia Tutto Al club L2 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 Poi Poi Pacchietti Premio Perché abbiamo Prenotato FIFA Moncini Un italiano del Cesena E questo Infia la rosa attiva Lo infiamo alla rosa attiva Scricce Ottiti 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 erti Ottiti 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 Tnt ranges Infiam Premio Aspettate ragazzi Questo è il pacchetto oro Nel preordine vi ricordo Il cino destro Zabaleta Buono buono ragazzi Mamma mia Il gliorente Marco su gliorente Via la rosettiva ITD Allora Vediamo noi Qui Qualche Tezzino destro Questo che fa a cagare Ragazzi Casomai poi al club Qualcosa Li leviamo Marco su gliorente Cdc Allora Cdc Vediamo qua Qui cosa abbiamo Come cdc Fa schifo Vabbè qualcuno Poi li scartiamo Ragazzi Non vi preoccupate Bruno Tiago Maya Cdc Sveigl Cdc Via la rosettiva Infia il club Infia la rosettiva 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 Inghia lui Fibro 1,77 poi 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 tiago maio cdc avevamo un altro cdc questi ragazzi che qui bah che scasso ragazzi ci sono giocatori scassissimi alcuni proprio li dobbiamo anche scartare cdc ah un altro cdc sono un po' sfortunati tutti cdc beh ovviamente è un posto di un centro con bistro decciano decciano ragazzi alla fine comunque mio cugino l'ho preordinato per lui però lui non usa eh foto perchè non ha l'online perciò non ha internet cioè praticamente ci darà il suo pacchetto questo è il questo è il contratto atto club si catalogo pacchetto bronzo adesso adesso io non so come ah si 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 ho capito che cavolo è successo prendi posizione aspetta 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 qui la domanda di sicurezza ragazzi devo staccare il video perciò primo spacchettamento l'abbiamo creato ragazzi io vi rimando al prossimo video questo è creiamo la nostra squadra abbiamo creato il nome e tutto vi ho fatto vedere un po' il tutorial come si fanno le prime fasi ora mi sistemo tutta la squadra metto le domande metto la sicurezza e vi faccio un nuovo video ragazzi ci rivediamo al nuovo video ragazzi non vi dimenticate grazie